Maria Rosaria, il tuo rapporto con la società che ti circonda, con tutte queste mentalità? Io vivo molto nel sociale, faccio parte di alcune associazioni e vedo, noto molto e da parecchio tempo anche, il disagio della gente autentica del Sud, della gente napoletana. A causa anche del lavoro mi sono trovata ad avere conoscenza con delle persone che ancora vanno vestite con le pezze, con i vestiti rattoppati, le calze rattoppate. Questo mi sembra impossibile nel 2010-2009, è impossibile ma significa che comunque c'è tanta gente che ha moralità, dignità di apparire ancora com'è, anche se nell'intimo sicuramente vuole sembrare, vuole avere, vuole possedere come tutte le altre persone. Però non ricorrono a quelle strategie, quegli stratagemmi oscuri che ci fanno vedere in televisione tutti i giorni, dicendo Napoli così, Napoli colì, il Sud, mafia, camorra e tutto il resto. No, ma come diceva Angelo, qua ormai la crisi sta salendo, sta andando ovunque. Si serpeggia in tutta l'Italia. Si serpeggia in tutta l'Italia e oserei dire anche in tutto il mondo. Pensa che aumentano i mendicanti, gente che non ha proprio nulla. I mendicanti che sono ormai uomini randaggi, che rovistano tra le immondizie. La stessa Chiesa non riesce più a sopperire a quell'assistenza precaria che pure comunque determina. Ma non ho saputo chi sei stata all'Aquila, in Abruzzo, quindi la protezione civile, la solidarietà e il volontariato. Dicci, parlaci. Dicci. Allora, l'Aquila e la solidarietà che la protezione civile ha dato al campo di Poggio Vicenza è una cosa che ci rende orgogliosissimi. Perché noi lì abbiamo dato il cuore e abbiamo lasciato il cuore. Abbiamo incontrato delle persone, appena siamo arrivati, delle persone scalze che erano sedute in macchina e appena hanno visto la colonna mobile arrivare sono scesi tutti quanti a ringraziarci. Noi non ci aspettavamo di vedere tanta gente che soffre, anche se abbiamo vissuto anche noi un terremoto qui. Ma l'autenticità di quelle persone, il cuore dei napoletani, penso che i poggesi abbiano preso anche una parte della nostra napoletanità, del nostro cuore, del nostro affetto. Maria Rosario, scusami, secondo te stanno ricostruendo bene l'Aquila e le zone terremotate là in Abruzzo o stanno determinando un po' gli scompensi di periferie, di quartieri e situazioni ghetto come poi hanno fatto anche in tutto il nostro sud? Io penso che non spetti a me dare una risposta perché non sono competente in ingegneria, geologia e tutto quanto. Uno sguardo profondo che ti fa dire? Uno sguardo profondo, ieri sera ero in email con un signore di Poggio Vicenze che mi diceva che hanno inaugurato l'asilo e fra poco inaugureranno la scuola elementare nuova. Questo significa che loro sono molto legati al territorio e vogliono ricostruire dove erano le case e vogliono che rimanga tutto dalle quale. Per cui quello che fa lo Stato... Questo è giusto e importante.